Pallone dentro, antecipato Pazalic, poi finisce fuori, altro tiro per provare a attaccare fino alla fine, Alondiges, brancato, deve liberarsi dal gioco dei contattivi da Mika Stade a mettere fuori, poi Adriano, anteciposo Caputano, a partire il contropianto del Lecce con Alondiges e finalmente Jonathan sarà corsa, la domanda ci fa più, se non arriva, non ci fa più Traimare un link in cui si tratta, anche in questo posto, il fatto che si tratta, ma prima la scuola in questa domanda, gdzie vanno anche il fatto o po' Gli staguardano nella domanda, per il fatto di altri soldi, non ci fa più, non ci fa più e si tratta, tra la scuola in questa domanda, Grazie a tutti 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 Grazie a tutti